1.600 revisioni di automobili certificate da un morto e tre officine autorizzate dalla motorizzazione civile che lavoravano con un software craccato. Sono i numeri sconcertanti della truffa scoperta a Napoli dai carabinieri in un mese di controlli sulle auto in circolazione nel capoluogo partenopeo. Per ottenere la falsa revisione non bisognava neppure portare l'auto in officina. Il computer collegato alla motorizzazione simulava la revisione della vettura ed emetteva la certificazione. I reati sono di falso, frode informatica, sostituzione di persona, concorrenza sleale. In un caso le firme sulle certificazioni sono di un tecnico licenziato da tempo che ormai lavora in un supermercato. Oltre 6.800 le violazioni al codice della strada riscontrate, le multe elevate ammontano ad oltre 3 milioni di euro. Circa 3.000 veicoli dovranno rifare la revisione. Le indagini continuano, secondo i dati del Pra a Napoli, più del 50% dei veicoli in circolazione più vecchio di 10 anni. In un centro di revisione è stato trovato un software hackerato che consentiva fittiziamente di sottoporre a revisione delle autovetture che materialmente non erano presenti nel centro stesso. In un altro caso abbiamo trovato delle attestazioni firmate dal responsabile tecnico di un centro che era invece deceduto da circa nove mesi. Per cui 1.600 circa autovetture con queste attestazioni, ovviamente non regolari, saranno richiamate a revisione.